Ciao ragazzi, oggi ce l'abbiamo una scatola di Oakley, il binobu gama di Oakley oggi nella gana si chiama Flight Jacket, io l'uso due lingua inglese e lingua italiani, ok? Ok, so now we're going to unbox these shades, prima di tutto grazie mille, vision store, Giuseppe Pizzini for these shades, just arrived today morning ok, we're going to unbox it, so we have one box of Oakley, ok, this is the original shades from Oakley ok, so ce l'abbiamo una folio come, c'è anche vision store, ancora, grazie mille, Giuseppe, vision store, Camayore ok, ora ce l'abbiamo nella pacchetto di, ok, di custodia ok, ora ce l'abbiamo ok, poi quello che c'è dentro c'è un altro, il temple oh, dove? io ho sentito ah e qui c'è un altro e un un paio di temple per cambiarla qui e da qui, questo secondo me è più più corto più corto forse che una gratis è una ricambi sempre con l'occhio ok ora ce l'abbiamo di occhiali di okli prism flight jacket ok prism sapphire blu che bellissima ok tutto originale ora tutto a posto grazie mille ragazzi grazie